Questa è la partenza del nodo che ritengo principale, infatti viene detto la regina dei nodi. Ma prima di arrivare a questo, ragazzi, credo che almeno una volta a tutti è capitato di sentersi dire beh, la mia vita già è una sopravvivenza, beh sì, io avrei il tempo di insegnarmi i nodi, sì, vabbè, ma questo cosa mi potrebbe servire? Nel 2020 nessuno poteva immaginare che una pandemia ci avrebbe colpito. Nel 2022 nessuno poteva immaginare che la Russia avrebbe attaccato l'Ucraina e nessuno può immaginare realmente quello che nella vita a ognuno di noi ci aspetta ancora. Potrebbero succedere delle situazioni particolari. Quindi io credo che sia arrivato il momento di insegnarci almeno i nodi principali. Ma prima di arrivare a questo, facciamo un passo indietro e iniziamo con la sigla. Grazie per la visione! Ciao a tutti ragazzi ed eccoci in questo nuovo video. Come avete visto già dell'anteprima del video, oggi andiamo a parlare di un argomento molto importante, ovvero i nodi di sopravvivenza. Ovvero quei nodi che io ritengo strettamente necessari e facili da capire, che ci torneranno utili in fase di sopravvivenza. Apro una parentesi che purtroppo guardando dei video, andando in rete, andando in molti siti, ancora oggi si tende a mischiare e non capire la differenza tra il bushcraft e il survival. Quindi molti, e dico molti, mischiano queste discipline. È vero che queste discipline hanno tratti in comune, ma realmente hanno anche tantissime differenze tra il bushcraft e il survival. Chi è interessato a capire principalmente queste differenze, qua sopra troverete il link dove allego il video che spiego la differenza tra bushcraft, survival e prepping, perché è importante capire queste differenze, soprattutto tra la sopravvivenza e il bushcraft. Oggi, ragazzi, vi anticipo che farò due video. Il primo video che parla di questi nodi, i sei nodi fondamentali della sopravvivenza, ma tra cui già uno voi lo sapete fare, tutti quanti. E un altro video dove andrò a parlare sempre di cinque nodi fondamentali della sopravvivenza che vengono chiamati i nodi di salvataggio, che richiedono un video a parte per non prolungare. Ma oggi concentriamoci su questi nodi che realmente in fase di sopravvivenza possono tornare utili. L'ultima cosa, ragazzi, non so se voi avete fatto caso, quando andate a cercare un nodo, lo stesso nodo può essere chiamato in due o tre modi differenti, ok? Perché succede questo? Perché diciamo delle più grandi scuole di nodi, come per esempio la scuola della Marina Italiana, la scuola dell'alpinismo, anche a tutto un modo, diciamo, un po' suo di chiamare gli scouti, no? Di chiamare anche in un'altra determinata maniera. Quindi lo stesso nodo, ragazzi, lo potete andare a trovare chiamato in maniera diversa. Arrivedo a dire, non vi interessa questa discussione, non vi interessa. Quello che a voi vi interessa è comunque come voi andate a memorizzare il nodo. Quello vi resterà per sempre. Ma non perdiamo tempo, ragazzi, e andiamo ad analizzare nel dettaglio questi nodi. Ragazzi, prima di iniziare il video dove vi spiegherò i nodi, dobbiamo conoscere alcuni termini più importanti. I termini più usati sono che la cima della corda, che la cima è quella che quando noi andiamo a fare il nodo corre intorno alla corda, viene chiamato corrente, ok? Mentre tutto il resto della corda che, diciamo, sta a ferma, viene chiamato dormiente. Quindi abbiamo il corrente che gira intorno al resto della corda, il resto della corda viene chiamato dormiente. Poi abbiamo la cosiddetta, il cosiddetto doppino, ok? Un doppino. Poi abbiamo le asole. Ci sono gli occhielli. Poi ci sono collo, mezzo collo. La parte della corda interna viene chiamata anima. Un'altra cosa molto importante è che quando noi il nostro nodo lo andiamo a stringere, ok? Quindi stiamo andando ora a stringere il nodo, viene detto asuccare, ok? Quindi noi stiamo andando ad asuccare il nodo. Quindi noi lo stringiamo, il termine corretto è asuccare, ok? Poi quando anche noi, per esempio, questo è il nodo, molti dicono che il nodo per essere corretto deve essere fatto bene, ok? Quando noi andiamo a sistemare il nodo, quindi facciamo una sorta di questo lavoro, stiamo andando a pettinare il nodo. Ma ripeto a dire, non siamo qui per spiegarvi tutti questi termini, che ripeto a dire, sì, è vero che uno li deve conoscere, ma come si dice in Sicilia, che si dice i maccheroni riempono la pancia, no? In siciliano viene detto i maccheroni allingono la pancia, le parole sono parole. E questo, ragazzi, diciamo, sono alcuni termini più usati, ma io, ripeto a dire, cerco di spiegarvi in una maniera abbastanza elementare, anche se uso termini diversi. Allora, ragazzi, iniziamo con il nodo classico, quello che sicuramente sappiamo fare tutti, ovvero il nodo semplice, ok? Quindi prendiamo la nostra corda, giriamo e facciamo il classico nodo che facciamo per allacciare le scarpe, ok? Quindi questo qui, infatti, io non l'ho contato come nodo, perché sono sette, ma meno questo, sono sei, perché questo lo sappiamo fare tutti. Comunque è un nodo che è, diciamo, il nodo più usato, perché ovviamente chi non conosce i nodi, che cosa fa quando deve andare a stringere qualcosa? Gli fa due nodi semplici. Arrivederci e grazie, ok? Non è un ottimo nodo, è molto difficile da sciogliere, facciamo una tenuta abbastanza scarsa, ma comunque, conoscendo altri nodi, non andremo più a utilizzare questo. Quindi questo è il cosiddetto nodo semplice. Ora invece andiamo a parlare di un nodo che ci tornerà molto, e dico molto utile, il nodo di giunzione. Dobbiamo unire due corde, ok? Dobbiamo unire due corde, perché noi in sopravvivenza abbiamo due pezzi di corde, e dobbiamo allungarcela, quindi dobbiamo unire due corde. Ho scelto questo nodo, chiamato nodo bandiera, perché funziona sia con corde dello stesso spessore, sia con corde con spessori differenti. Quindi può essere una corda più grossa e una corda più piccola. Ma andiamo a realizzare questo nodo. Per realizzare questo nodo, dobbiamo creare un doppino, quindi come state vedendo, sto prendendo la nostra cima, la sto piegando su se stessa in questa maniera. e abbiamo creato questo doppino. Poi che cosa dobbiamo andare a fare? Dobbiamo andare a prendere la cima dell'altra corda, la facciamo passare di sotto, una volta che lei è entrata di sotto, dobbiamo farci fare un giro, in modo tale, come vedete, sta prendendo la prima corda e la seconda. Quindi cosa ha fatto? È entrata di sotto, prende la prima, prende la seconda. In automatico, come vedete ragazzi, nella seconda corda, basta che io la alzo, che io la alzo un poco, si crea questo spazio. Vedete? Basta che alzo la corda, si crea questo spazio. Prendo il mio corrente e lo faccio passare in questo spazio. Ok? Lo riprendo, ritiro, quindi con una mano sto tenendo sempre il nostro doppino, con l'altra sto prendendo il corrente, asucchiamo in questa maniera. Ok? Guardate, abbiamo unito le nostre corde. Questo è un nodo che tiene abbastanza, un nodo molto facile della realizzazione, e che anche quando la corda ha una tensione molto elevata, basta che noi andiamo a abbassare, basta che noi andiamo a abbassare questo, in una maniera facile, si scioglie il nodo. Un altro nodo che ci torna fondamentale in sopravvivenza è il cosiddetto nodo scorsoio semplice. È un nodo che ci permette, è un nodo molto antico, veniva usato già ai tempi della pre-storia per creare trappole, per creare, diciamo, una sorta di cappio, scorevole, ed è un nodo molto importante. E più avanti capiremo il motivo. Quindi, basta che noi prendiamo il corrente, creiamo il corrente, passa sopra, sta passando sopra il dormiente, e abbiamo creato la nostra asoletta, quindi il corrente passa sopra il dormiente, e la tengo con due tita. Il resto del corrente gli facciamo fare un giro e passa da sotto, e lo appoggiamo in questa maniera, quindi ripassa da sotto e lo appoggiamo in questa maniera, perché lo dobbiamo appoggiare così? ragazzi, quando noi lo andiamo a appoggiare così, abbiamo visto che si è creato questo spazio, ok? Dove ora io ho messo il mio dito. In questo spazio, noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo riprendere il corrente e farlo ripassare da questo spazio che avevamo appena creato. Asucchiamo, quindi io con una mano tiro di sopra e con l'altra tiro il corrente, stringo, e in questa maniera ragazzi, guardate, questa è la corda, abbiamo fatto un nodo scorsoio, quindi se noi per esempio lo dobbiamo utilizzare in questa maniera, basta che andiamo a tirare, come vedete, il nostro nodo, più tensione facciamo e più stringe. Ragazzi, spero che il video vi sta piacendo e vi chiedo di supportare il canale iscrivendovi e attivando la campanellina. In questa maniera sarete sempre aggiornati delle uscite dei miei nuovi video, compreso il video dove parlerò dei nodi di salvataggio. Ma cosa dirvi? Grazie e proseguiamo. Un altro nodo molto interessante che ci può tornare in sopravvivenza, soprattutto quando dobbiamo accendere il nostro fuoco e dobbiamo portare un bel po' di legna, è il nodo cosiddetto bocca di luco. Ma come si fa questo nodo bocca di luco? Basta prendere la nostra corda, la andiamo a ripiegare su se stessa, quindi la mettiamo a metà la corda, ok? Quindi le due estremità le mettiamo, quindi abbiamo creato, abbiamo semplicemente piegato la nostra corda a metà. Andiamo a appoggiare la parte in questa maniera, ok? Quindi la sdraiamo tutta, facciamo finta che siamo nel terreno, l'abbiamo sdraiato questa corda a terra in questa posizione e qui al centro abbiamo messo tutta la nostra legna, quindi la legna verrà posizionata in questa maniera, ok? Quindi mettiamo che qua noi abbiamo tutta la nostra legna, cosa dobbiamo fare? Andiamo a prendere il nostro, le nostre due estremità, le andiamo a far passare nello spazio che si è creato e andiamo ad asugare. In questa maniera, ragazzi, ok? Abbiamo questa situazione, si è appena creato il nostro nodo bocca di lupo, ok? Ma perché è bello? Perché come vedete con la corda che noi ci è rimasta, con la corda che noi ci è rimasta ce l'andremo ad attaccare nei pantaloni come una sorta di cintura oppure anche con le mani e andremo a trainare tutta la nostra legna ed è un nodo abbastanza utile che ci permette di portare un'enorme quantità di legna e viene distribuita in una maniera abbastanza uniforme. Un altro nodo fondamentale nella fase di sopravvivenza è il cosiddetto nodo paletto, ok? Il nodo paletto si può effettuare in due maniere e viene utilizzato molto spesso perché è un modo molto rapido. Quindi noi dobbiamo attaccare qualcosa al nostro albero facciamo finta che questo sia un albero cosa dobbiamo fare? Prendiamo il nostro corrente entriamo in senso anti-orario vedete che sto entrando in senso anti-orario ok? E abbiamo questa situazione il corrente deve andare a passare sotto il dormiente ok? Vedete che sta passando il corrente passa sotto il dormiente e creiamo questa situazione noi con le nostre due dita ce lo teniamo riprendiamo il corrente e lo facciamo passare di sopra ok? Come vedete quando io lo faccio passare già di sopra si sta creando questo spazio ok? dove sto muovendo il mio dito in questa maniera dobbiamo fare altro che il corrente sta passando di sopra prendiamo la nostra cima e la facciamo passare nello spazio che si è appena creato ok? Quindi lo sto andando a fare in questo spazio e a succo una volta che a succo e sistemo il nodo che si dice pettinare abbiamo appena effettuato il nostro nodo paletto un nodo abbastanza semplice da fare abbastanza veloce un'altra alternativa perché questo nodo se il carico viene fatto in maniera parallela è un nodo che tiene molto ma se noi cominciamo che la pressione non è costante e andiamo a fare in questa maniera come vedete sta tendendo a sciogliersi per evitare questo problema per evitare questo problema e nel frattempo ve lo faccio rivedere quindi in senso anti-orario il corrente passa sotto il dormiente risaliamo quando risaliamo notate che si è creato questo spazio in questo spazio lo facciamo ripassare e asucchiamo una volta che nel nostro nodo abbiamo asuccato e ci è rimasto questo spazio in più possiamo andare a bloccare tutto con un nodo semplice con uno due nodi semplici ok per mantenere il nodo in sicurezza oppure possiamo sempre creare una sorta di spira ok sempre con la corda in più facciamo sul dormiente due spirette in questa maniera andiamo a fare passare il corrente dentro le spire e andiamo a creare un altro bloccaggio di sicurezza ok in questa maniera ma ripeto a dire perché questo nodo è molto utilizzato questo nodo è molto utilizzato perché è molto facile da fare ma soprattutto perché nella sua seconda versione basta che noi andiamo a prendere il corrente creiamo un'asola dove il corrente stavolta passa sotto il dormiente non sopra passa sotto il dormiente ok col corrente rimasto facciamo lo stesso lavoro quindi il corrente creiamo un'altra asola dove il corrente passa sotto il dormiente il corrente passa sotto il dormiente il secondo nodo appena la seconda asola appena creata la appoggiamo di sopra ok in questa maniera la sovrapponiamo in questa maniera e andiamo a inserirlo nel nostro albero nel nostro tronco andiamo ad attirare e come vedete ragazzi abbiamo effettuato lo stesso identico nodo paletto ok ve lo faccio rivedere quindi corrente creiamo un'asola dove il corrente passa sotto il corrente passa sotto il dormiente con l'altra corrente rimasto stesso discorso il corrente creiamo un altro asola dove passa sotto il dormiente ok e si crea questa situazione l'ultima fatta la sovrapponiamo alla prima inseriamo dentro il nostro tronco eccetera asultiamo e abbiamo appena effettuato lo stesso identico nodo di prima questo è un nodo che io utilizzo anche nelle trappole nel cosiddetto grilletto che poi è un argomento che parleremo più avanti ed è un nodo molto buono molto veloce ovviamente non andrò a affidare la mia vita a questo nodo se devo fare mi devo calare da una montagna ma un domani se noi per avere sempre la sicurezza in più andiamo a fissarlo andiamo a bloccarlo ulteriormente in questa maniera anche se la costante non ce l'abbiamo resta comunque un ottimo nodo ma perché sto facendo questo lavoro quello che vi sto andando a spiegare è chiamata la cosiddetta legatura quadrata ovvero ci troviamo in sopravvivenza abbiamo il nostro albero il nostro tronco dobbiamo costruirci il nostro rifugio e capiterà che ci dobbiamo trovare in una soluzione che dobbiamo andare a mettere un altro tronco o che dobbiamo andare a creare questa legatura per creare una legatura dovete ricordarvi questo che nella legatura il punto di partenza il nodo di partenza deve essere un nodo paletto ora facciamo finta che questo sia l'intero nostro tronco dovete ricordare che il nodo paletto deve essere sotto il nostro tronco che dobbiamo andare a mettere e no viceversa quindi nodo paletto tronco di sopra in questa posizione a creare diciamo la nostra croce quindi abbiamo il nostro nodo paletto andiamo a appoggiare il nostro tronco e ora quali i movimenti che dobbiamo fare i movimenti che dobbiamo fare ragazzi è prendere il resto della corda guardate quindi io cosa faccio salgo ok passo dietro riscendo sto riscendendo vedete che sto riscendendo sono arrivato qui ripasso dietro quindi la faccio passare dietro e lo riprendo di questo lato quindi questo ho fatto lo stesso identico lavoro di sopra verso sotto ve lo rimostro quindi abbiamo la nostra corda sale gira intorno al paletto riscende una volta che riscende la facciamo rigirare di nuovo vedete che io sto rigirando di nuovo intorno al paletto e la faccio risalire questo lavoro ragazzi lo facciamo per un paio di volte quindi saliamo giriamo ok riscendiamo rigiriamo fino a quando abbiamo fatto su questo un 6-7 ok poi qual è il trucco per fissare bene il tutto dobbiamo andare a strozzare i laterali ovvero quindi siamo giunti in questa situazione ok ora il mio nodo voglio che sia un nodo abbastanza stretto devo fare questo movimento devo andare a stringere vedete che si sono creati questi spazi ok li dobbiamo andare a stringere con una maniera abbastanza forte quindi facciamo un giro di sotto e di sopra in poche parole gli andiamo a stringere i fianchi in questa maniera e stringiamo bene come vedete stretto abbastanza bene la struttura già comincia a non muoversi più dopo 3-4 giri di questo ricominciamo il nostro lavoro quindi sopra gira intorno scende passa di sotto e risale di nuovo per un altro paio di volte dopodiché per fissare tutto andiamo di nuovo a stringere i laterali in questa maniera vedete una volta che noi abbiamo finito di fare questo lavoro con il nostro corrente che in partenza avevamo lasciato possiamo anche andare a fare un nodo semplice di bloccaggio e andiamo a bloccare il tutto e in questa maniera ragazzi come vedete la sto prendendo a pugni ma non si muove siamo andati a creare una legatura quadrata e questa legatura ragazzi in sopravvivenza soprattutto per la fase del bosco è molto utile l'ultimo nodo che vi vado a spiegare per oggi è chiamata la regina dei nodi ovvero la cosiddetta gassa da mante nodo bulì eccetera eccetera ok ma noi chiamiamola gassa da mante l'ho lasciata per ultimo perché questo stesso nodo è un nodo molto importante che dobbiamo saper fare ma che nel prossimo video poi dove troverete i nodi di salvataggio vi spiegherò il motivo perché è importantissimo perché lo stesso identico nodo fino ad anni passati veniva usato anche dai vigili del fuoco per salvataggio eccetera ma andiamo a parlare di questo nodo ok prendiamo la nostra corda quindi prendiamo il corrente e lo facciamo passare intorno in senso anti-orario ok cosa dobbiamo fare nel dormiente dobbiamo creare una sorta di occhiello in questa maniera stando attenti che il corrente passa sopra il dormiente ok quindi è un anello interno dove il corrente passa sopra il dormiente cosa dobbiamo fare andiamo a prendere ve la insegno in una con una filastrocca il serpentello entra da sotto il laghetto ok quindi il serpente entra sotto il laghetto ok esce gira intorno all'albero che sarebbe il resto della corda come vedete sto andando a prendere anche la seconda corda e si rituffa nel laghetto si asucca andiamo ad asuccare e appena siamo andati a creare la nostra gassa da amante ok ora ve lo mostro di nuovo in una maniera più a rallentatore quindi si entra in senso anti-orario si crea un laghetto stando attenti che questo laghetto sia un laghetto interno col corrente ok il corrente sta passando sopra il dormiente vedete che passa il corrente sopra il dormiente in questa maniera quindi cosa fa il serpente il serpente esce dal laghetto quindi lui è uscito vedete è uscito questo è il resto della corda ci fa un giro di sotto vedete che ci sta facendo un giro di sotto lo riprendiamo e il serpente si rituffa nel laghetto ok si è rituffato ve lo facciate così si è rituffato dentro il laghetto una volta che si è rituffato con le due dita andiamo a stringere il nostro serpentello e con l'altra mano andiamo a tirare il resto della corda come vedete abbiamo creato il nostro occhiello un nodo molto sicuro con questo vi potete anche calare state tranquilli che non si scioglie poi se noi sempre vogliamo una sicurezza in più il corrente lo lasciamo più lungo e andiamo a fare un altro nodo di bloccaggio ma questa la cosa bella di questo nodo è che anche che tu tiri in una maniera molto e dico molto forte non tende a stringere e più avanti nel prossimo video capirete perché questo nodo è stato utilizzato anche in fase di salvataggio ragazzi che cosa dire spero che il video vi sia piaciuto ripeto e ci tengo a precisare che questi sono i nodi personalmente che utilizzo e che preferisco in una fase di sopravvivenza è vero che i nodi ce n'è 3000 ma è meglio conoscerne pochi e ben fatti che in un momento poi di confusione di stress di ansia la nostra mente si potrebbe nebbiare e le nostre capacità verranno a mancare quindi concentriamoci su questi nodi ma cosa dire ci vediamo al prossimo video ciao